Elite Roma e Palermo sono queste le due formazioni che vedremo sul parquet del Palavazzeri per i prossimi due sabati. Domani arriva la formazione Capitolina con palla 2 alle 18.30 con il team di Palermo. La gara è stata posticipata alle 20 per questioni organizzative di viaggio della formazione siciliana. Partiamo dai 40 minuti di domani. Rispetto all'andata sul parquet di Via Svevo vedremo un'altra Elite Roma. Ma il roster può contare su una Silvia Ceccarelli in più ma non fa più affidamento su gendre e bambini. È una nuova Elite Roma anche sotto il punto di vista tecnico. Maurizio Pasquinelli ha preso il posto di Massimo Prosperi. La Molesana basket a campo basso invece con la finestra di mercato invernale non ha subito grandi variazioni in uscita a smorto e in entrata a Mancinelli. Tra le fila dei fiori d'acciaio c'è attesa per vedere in campo proprio l'ultima arrivata Elisa Mancinelli che ha già debuttato con il colore rosso-blu a Forli ma domani conoscerà da vicino il Palavazzeri per una gara ufficiale e soprattutto il tifo. Molesano anche a lei toccherà imparare parole e musica del coro rosso-blu che in questa stagione è stato intonato 10 volte su 10 in occasione delle gare interne. La Molesana basket a campo basso Elite Roma verrà diretta da Adriano Cella di Corato secondo Claudio Borrelli sempre di Corato palla 2 prevista alle 18.30.